buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Soleil a Tikamekou che è un film di Chloé Leriche che accogliamo qui benvenuta Chloé allora regista sceneggiatrice produttrice e montatrice del Quebec il suo film Soleil a Tikamekou è stato selezionato alla 41esima edizione del festival in concorso internazionale lungometraggi è un'anteprima internazionale la produzione è Les films de l'autre che è una produzione canadese ed è distribuito da Fan Film società anche di distribuzione canadese la prima mondiale è stata al festival del nuovo cinema di Montreal nell'ottobre del 23 quindi poco fa e era inserito nella sezione nazionale lungometraggi di finzione dove ha ottenuto il premio del miglior film francofono e nello stesso festival aveva avuto il sostegno del First Cat Lab e poi è stato selezionato anche al festival del cinema d'autore di Rabat in Marocco e infine se dico giusto è inserito nei primi o secondi film del premio Jean-Marc Vallée per giovani registi che sono poi dei film selezionati per essere presentati nei più importanti festival del cinema canadese tra i quali quello di Toronto giusto? Allora Chloe questo è il suo secondo lungometraggio dopo molti corti e il primo era un film che si chiamava Avant les Rues e che aveva partecipato a diversi festival entrambi i film sono frutto di una collaborazione con questa comunità Akita Meku della quale io vorrei chiederle di raccontarci un po' di più perché probabilmente in Europa è conosciuta poco è una realtà conosciuta poco e volevo anche poi chiederle questo suo interesse per questa comunità Ok, bonjour Au Canada, il faut savoir qu'il y a 650 comunità autochtones, 630 en fait, 5% della popolazione canadiena e autochtone e l'Atikamecch, c'è una di queste comunità. Au Québec, la provincia canadiena dove io vivo, la provincia francophone, Au Québec, il y a 11 nations, 11 premières nations e l'Atikamecch sono una di queste comunità e l'Atikamecch sono una di queste comunità nazioni. Est-ce qu'on traduce par petit moment? Ok. Ensuite, moi, j'ai longtemps travaillé, je faisaisi della video d'art, dei corsi di 2-3 minuti e e ho lavorato con le persone della ruota, anche con le persone delle primiere nations, in una roulotte, in un mobile, dove si trovavamo al centro-vile di Montréal o in le comunità autochtono per insegnare la video ai giovani per parlare e raccontare le loro storie. Quindi, ho insegnato a la camera, il montaggio, il sonore, che conosco tutti gli aspetti della produzione, di maniera autodidacta, ho appriso, e è così che ho stato in contatto con l'Atikamecch una prima volta. È un progetto sociale che ho lavorato per loro per 8 anni. Forse non lo sapete, ma nel Canada esistono più di 150, circa 150 comunità autoctone, popolazioni autoctone, di cui gli Aikamec fanno parte. In particolare sono una delle 11 prime nazioni del Quebec, che è appunto la regione da cui provengo io. e li ho conosciuti circa 8 anni fa. Ho fatto con loro un lavoro che si è prostratto nel tempo per la realizzazione, per insegnare sostanzialmente lo strumento del video e per realizzare dei cortometraggi di 2 o 3 minuti fermando le persone per le strade e andando proprio a lavorare con le prime nazioni in roulotte, in caravan, nella regione, nell'area di Montréal. E appunto dal momento che io stessa sono autodidatta e sono in grado di svolgere tutta una serie di mansioni all'interno della realizzazione del cinema, tra cui appunto sono operatrice di macchina da presa, faccio il montaggio, faccio il suono, faccio tutte le fasi. a quel punto ho potuto insegnare loro appunto la completezza del lavoro ed è un lavoro che è durato 8 anni. Scusatemi, sono 650 comunità autottome. Come ha fatto a gestire la lingua? Che lingua parlano? Che lingua parlano? Le zatticamecchi parlano le zatticamecch e franzai quindi io dono le direzione in francese, loro gioiai in Aticamecch e poi dopo il montaggio ho fatto tutto sottistere il materiale per i giovani Aticamecchi di la comunità abbiamo fatto dei stagi di cinema su mio plato di tournaggio e avevano dei giovani che erano engagati per sottistere tutte le scena c'era anche un progetto sociale e quindi quindi c'è come se ma il primo film c'era la stessa le due film c'era in una lingua che non parla ma solo per la musicalità e poi vedete io ho corrigato un chiffre allora che non parla italiana ho finito per ho facili con le lingue in realtà gli Aticamecchi naturalmente parlano l'Aticamecch ma comprendono anche il francese quindi io davo loro indicazioni in francese e loro invece recitavano in Aticamecch poi è stato fatto proprio insieme a loro un lavoro perché sostanzialmente il set di questo mio film è diventato un vero e proprio stage di lavorazione cinematografica quindi hanno praticamente astratto tutto il materiale parlato per realizzare i sottotitoli in francese quindi davvero è stato un progetto anche sociale la stessa cosa avevo fatto nella lavorazione del mio primo film che proprio perché ho anche una certa facilità con le lingue non parlo italiano ma appunto ho accolto immediatamente il 650 contro il 150 ci sono domande buongiorno Davide Gravina Cine Dams io volevo chiedere come è stato rapportarsi con una storia che pur avendo degli effetti anche nel presente è iniziata nel 1977 quindi praticamente 50 anni fa grazie C'è stato molto difficile il fatto che il caso non è irrisolito che la police non è inquietata in 1977 ha fatto in sorte che i famigli sono ancora blessati 40 anni più tard ancora molto 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 e quindi ho lavorato molto in collaborazione con loro per fare dei atteggi di guettison quindi c'era una forma per me di entrare in contact con loro allora ho fatto dei atteggi di scrittura ho fatto i tutti gli aspetti del film per trasformare questa dolore questa difficoltà in qualcosa di positivo e per che per loro il film sia in qualche certo il film è a guerire d'une certaine maniera poi ad accepter questo processo e passare dalla memoria quindi è un processus difficile io ho lavorato con le famigli durante set anni di molto come lo feria un documentarista in fait io ero molto près di di persone nelle 5 famigli effettivamente è difficile per loro nonostante appunto siano passati praticamente 50 anni venire a patti con questa vicenda che resta un caso non risolto nel momento in cui da parte della polizia è mancata la volontà di andare a fondo e di indagare per scoprire la realtà dei fatti e i colpevoli e io mi sono resa conto che appunto 40 anni dopo le famiglie sono ancora profondamente ferite da questi eventi familiari i componenti appunto delle famiglie delle vittime ed è il motivo per cui ho scelto di realizzare questo film insieme a loro per in qualche modo creare dei gruppi di guarigione cioè coinvolgendoli nella realizzazione del film nella scrittura in tutti gli aspetti ho ritenuto di di provare offrire loro un modo per superare questo questo dolore e portarli verso un atteggiamento più più positivo cioè mi auguro che il film possa essere utile per avviarli verso un processo di guarigione o quanto meno di elaborazione di quei fatti in modo che quei fatti vadano finalmente a far parte della memoria singola e collettiva quindi è stato un lavoro lunghissimo che ho fatto con loro per realizzare appunto il film è durato sette anni e da parte mia l'atteggiamento credo che sia stato molto simile a quello di un documentarista di una documentarista perché ho vissuto in grande vicinanza con loro con le famiglie anche mi vorrei aggiungi che ho fatto una presso policiaire tutta sola ma mi ho apporto molto informazioni su che si 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 In 1977, c'è molta nuova informazione per la comunità nel film, cose che non hanno scoperto, che hanno scoperto. Quindi, erano molto felice di nostra collaborazione. Io ho messo, per esempio, un gros dossier con tutto ciò che ha scritto su questa periodo di 40 anni. Tutti i ricerchi, tutti i ricerchi di loro hanno stato dato. Quindi, per loro, erano interessanti che sia qualcuno, invece che la polizia, ma che agisse un po' come un detettivo, se vuoi, e che io faccia tantissime di scoperto. E che erano molto apprezzati. E l'altra cosa che ho fatto è che ho svolto io stessa una sorta di indagine poliziesca, nel senso che sono andata a ritroso nel tempo, del 1977 in poi, e ho cercato di raccogliere materiali che dessero delle informazioni che non erano pervenute a loro e che loro non sapevano. E di questo sono stati molto contenti e molto grati, naturalmente, perché hanno potuto mettere insieme un po' di frammenti mancanti. Ho composto sostanzialmente, per esempio, un dossier di tutto quello che era stato scritto sulla vicenda, di tutto quello che è stato il frutto e risultato delle mie ricerche. E questo mio ruolo, non essendo io una poliziotta, ma questo ruolo di investigatrice, ho l'impressione che sia servito a loro. Il y a anche delle informazioni che hanno stato scoperto per l'equipe dei Décors, per esempio, durante il tournaggio, delle informazioni che ci hanno permesso di sapere che la polizia era al corso di alcuni quando hanno scoperto le corso. perché, tra l'altro, una delle fie che aveva le culotte bassi quando le corso sono trovato. Ma cosa è qualcosa che nessuno ne sava e che abbiamo scoperto durante il nostro lavoro. Di modo molto, 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 da un'embaumeur per solo per solo luogliere dei cerchi. E lì, abbiamo accettato alle informazioni perché era l'embaumeur dell'epoca. E per me non mi aveva detto la verità quando l'avevo incontrato per le mie ricerche, ma il suo figlio ha detto altre cose a i miei technici che sono andati cercando i cerchi. Quindi, ci ha permesso di veramente elucidare un po' di clarificare i rapporti tra la polizia e gli Autochtones e di sapere veramente di quelle maniera se si è prodotto un po'. Non d'en sapere più, almeno. Per esempio, hanno anche raccolto nuove informazioni gli scenografi, tutto il reparto delle scene ed è avvenuto durante le riprese. Ci siamo resi conto a quel punto che la polizia di fatto era al corrente di determinati aspetti ma non li ha rivelati alle famiglie. Per esempio, quando hanno ritrovato i corpi c'erano dei dettagli che non sono stati detti come il fatto che una delle ragazzine avesse le mutandine abbassate è qualcosa che nessuno di loro, nessuno dei familiari ha saputo perché la polizia non l'ha condiviso. oppure l'impresario appunto delle pompe funebri che non ha detto la verità, non l'ha detta nemmeno a me quando sono andata perché dovevamo noi stessi noleggiare delle bare per le riprese del film e invece il figlio quando poi sono andati gli scenografi a recuperare queste bare ha detto qualche cosa di diverso rispetto a quello che ha taciuto il padre. Quindi sostanzialmente tra gli elementi pochi rivelati dalla polizia e quello che sapevano le comunità autoctone noi siamo riusciti a dare un'aggiunta di informazioni. Lei pensa che ci saranno dei dibattiti attorno al fatto che lei ha comunque rispolverato ritirato fuori un evento che era passato sotto silenzio? o almeno lo spera? Io ne credo non. Io ne credo per le razioni legale perché in 2016 c'è stata una riopertura dell'enquête ma è stata fermata un anno più tard e a l'epoca non c'è stata di preuvi reccelliti quindi per le razioni legale ce ne sarà non possibile ma per me ce che è importante non solo questa storia ma per la parla di parlare di una frontale del racismo sistémico au Canada io vorrei solo che la comunità attikamekw di Manawan dove ho filmo è la même comunità dove vivia Joyce Echaquan che è decedata in 2020 sull'isca lì d'hospital a la suite di mauvais traitements da parte del sistema hospitali c'è una molto grande problematica il racismo sistémico nelle instituzioni publie canadiennes c'è una problematica che va fino a tuer dei persone delle primele nation come c'è il caso con Joyce Echaquan e per me l'importanza non è necessariamente di riferire questo caso ma che le Quebecois prenne conscience le Quebecois le Canadiens e le persone d'un po' prendano conscienza della realtà delle primele nazioni al Canada perché abbiamo l'impression che tutto è nel passato ma è ancora attuale non credo che questo avverrà anche per un motivo che è esquisitamente legale il caso era stato riaperto nel 2016 ma dal momento che non erano state fornite delle nuove prove è stato chiuso un anno dopo quindi a questo punto è impossibile immaginare che venga riaperto una seconda volta ma per me quello che conta realmente è mostrare in modo assolutamente frontale l'atteggiamento il razzismo sistematico che pervade tutte le istituzioni in Canada forse siete al corrente di quanto è avvenuto nel 2020 quindi in tempi molto recenti a Joyce e a Juan che è morta nel suo letto d'ospedale è stata sostanzialmente uccisa per un atteggiamento appunto razzista in un'istituzione come quella ospedaliera è una forma di razzismo talmente radicato nel sistema canadese che arriva può arrivare anche a eliminare le persone fisicamente a ucciderle e quindi se i chebequai i canadesi acquisiscono una consapevolezza di questo dato di fatto e di quello che è la realtà delle prime nazioni per me è già un risultato perché non parliamo di un atteggiamento del passato ma di un atteggiamento ancora molto presente nella società oggi ci sono domande microfono buongiorno Giorgia Bergamasco Cine Dams lei ha parlato di gruppo di guarigione per l'elaborazione appunto di questo lutto collettivo che è avvenuto nella comunità e volevo chiederle effettivamente quanto la speranza che ruolo ha la speranza in un film talmente doloroso belle question al principio del processo le famiglia aveva molto malo e aveva anche peur di cosa che eravano quando il film e quando ho dice le famiglia c'è 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 la mamma d'un dei personaggi par esempio la madre di Lucie è 90 anni oggi allora c'è difficile anche lavorare con persone agere su question doloroso come ma ce che posso dire c'è che la prima del film in una grande salle di cinese con con bambino qui que bambino qui étaient dans la salle étaient étonnés parce que les gens des premières nations des familles je leur avais montré le film déjà 4 fois en petits morceaux 15 minutes à la fois je les préparais je leur disais ce qui allait venir je voulais pas que ce soit vécu comme un choc donc malgré ça pendant la projection les gens pleuraient criaient c'était vraiment très très intense mais après la projection il y a eu une grosse cérémonie de purification à côté du cinéma c'était vraiment vraiment spécial et le lendemain il y avait un cercle de paroles et les gens des familles étaient fiers parce qu'ils ont pu être assis dans la salle de cinéma et voir que leur histoire était partagée et à ce moment-là tout a changé et moi je l'ai vu ce passage de la douleur à la résistance aussi et ça c'était très fort de voir ça mais eux dès le début du processus voulaient raconter cette histoire-là c'était leur volonté sinon j'aurais pas fait ce film c'était leur volonté et ils trouvaient ça extrêmement important que l'histoire soit connue de tous mais le passage de la douleur à la fierté il était important dans le film c'est autre chose et c'est très difficile de travailler avec une personne très ancienne sur un épisodio très doloré tout maintenant donc de réunir à réunir à réunir ce dolore c'était très compliqué mais quand j'ai commencé à travailler avec eux et ont contribué à réalisation du film sommes arrivés au moment de la première du film quand il film a été mostré en Québec et c'est une expérience assolutamente sorprendente je l'avais déjà montré un peu à pez à leur il film à l'Ética mèque parce que j'avais eu le temps en quelque sorte de digerirlo et de ne pas affrontar un moment si complesse comme la première en une proyezione publique et en réalité non sont restés donc scioccés dans le verre le film en salle ensemble à des Québécois mais nonostante le fait que l'avessero visto ils ont commencé à griller et à pianger durant la proyezione puis à la fin de la proyezione vicino au cinéma a été fait une grande cerimonia de purification c'est un moment très intense et bellissime parce que ils ont vraiment montré toute la leur fierezza c'est le fait que la leur histoire soit finalement condivisé avec la populaire québécois a permis de mettre à part le doule qui est encore dans leur pour montrer vraiment toute la leur fierezza et la leur voglia de résister parce que maintenant leur racconto est public et donc c'est un moment très important pour eux pour qu'ils soit connaître leur histoire mais dans le film l'espoir n'est pas là je voulais créer un impact chez le spectateur je crois que l'espoir dans le film vient du fait qu'on sait que les acteurs devant la caméra et derrière que devant et derrière la caméra il y a des gens des familles qui ont participé et que ça montre leur résilience et leur grande beauté je crois que dans le geste du film il y a un peu d'espoir mais à la fin j'avais vraiment envie que les gens soient secoués par cette espèce de sentiment de désespoir où on a l'impression que rien va changer parce que je voulais que le film serve de tremplin et peut-être faire bouger les choses mais c'est vrai que dans le film la sperance non c'est peut-être être colta à trattes dans les gestes des acteurs sachant que c'est-à-dire que c'est-à-dire une profonde collaboration de la part des veres protagonistes de cette histoire qui ont montré non seulement la leur capacité de résilience mais aussi la leur belleza peut-être que la scossa peut-être peut-être juste de mostrar-les così disperati e quasi rassegnati sulla possibilità che qualche cosa cambia ecco invece io mi auguro che qualcosa possa cambiare grazie dobbiamo chiudere grazie a Chloe grazie a tutti per la vostra presenza grazie ad Anna Ribotta per la traduzione e buon festival la traduzione buon festival grazie 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 a tutti